La cultura tra arte e mestieri. E questo è il tema del dibattito che si è tenuto a Napoli nella Certoso e Museo di San Martino per la presentazione del premio Artis Suavitas 2021, il prestigioso riconoscimento organizzato dall'associazione Artis Suavitas APS presieduta da Antonio Larizza che questa mattina ha annunciato i nomi che il prossimo 30 giugno riceveranno questo importante premio. Abbiamo l'onore il 30 di ricevere il maestro Giovanni Allevi e quindi in un contesto, in uno scenario meraviglioso oggi lo raccontiamo ed è una notizia che mi dà grande orgoglio. Deve essere questo un punto di partenza per il nostro territorio. Abbiamo grandi imprenditori, abbiamo tra i premiati Rosario Caputo, Domenico Raccioppoli, abbiamo anche Jacopo Veneziani, Cecchi Paone, il presidente del Tribunale di Napoli e quindi è uno scenario di grande importanza e questo rende merito anche ai sacrifici che noi abbiamo fatto fino ad oggi. Al dibattito hanno partecipato gli imprenditori Maurizio Marinella, Domenico Raccioppoli, CEO di Nuova Erreplast e Rosario Caputo, presidente di IBG. Arte, cultura ma anche il rilancio del valore della sostenibilità nella vita politica e nell'economia del nostro paese per ripartire ed esaltare le risorse del nostro territorio. Noi dobbiamo partire proprio dalla cultura, cercare di trasmettere ai nostri figli attraverso anche le scuole o attraverso interventi pubblici dove si va a perfezionare una cultura verso l'ambiente in cui viviamo. Noi nel nostro DNA non ci sono solo il fatto che abbiamo gli occhi azzurri o abbiamo i capelli più o meno di un colore ma abbiamo anche le emozioni, il vissuto dei nostri antenati e spesso quando cammino per quello che noi chiamiamo la vecchia, l'antica Napoli io ho la sensazione di esserci già stata. Ecco, credo che in quel momento funziona quel concetto di memoria storica che ognuno di noi porta e credo che ce l'abbiamo dentro, dobbiamo provare a riascoltarlo, cioè dobbiamo dargli un po' più di credito.